domenica sera mi sono sentita male per cui abbiamo chiamato l'ambulanza mi hanno portato a pronto soccorso a bene fatti fratelli per cui non c'era posto e sono stata portata ospedale santo spirito mi sono stati fatti tutte le cure del caso lunedì mattina mi sono sentita un po meglio e sono andata al bagno da sola al mio ritorno non ho più trovato il mio letto ho chiesto spiegazioni da un infermiere e lui mi ha detto che letto serviva a un'altra persona